Accogliere, proteggere, promuovere ed integrare sono le quattro pietre miliari del cammino della Chiesa riguardo alle emigrazioni che Papa Francesco ricorda ai membri della Federazione Internazionale delle Università Cattoliche a conclusione di un convegno in cui il complesso fenomeno contemporaneo è stato affrontato attraverso una riflessione scientifica, teologica e pedagogica. Cercando di superare i pregiudizi e i timori legati a una scarsa conoscenza del fenomeno migratorio. Per Bergoglio è necessario approfondire gli studi sulle cause remote delle emigrazioni forzate con il proposito di individuare adeguate soluzioni al problema anche se a lungo termine. Perché occorre dapprima assicurare alle persone il diritto a non essere costrette ad emigrare. In tema di migranti il Pontefice indica poi alle Università Cattoliche tre specifici ambiti di competenza, ricerca, insegnamento e promozione sociale, sottolineando una priorità fondamentale. E' altrettanto importante riflettere sulle reazioni negative di principio, a volte anche discriminatorie e xenofobe, che l'accoglienza dei migranti sta suscitando in paesi di antica tradizione cristiana, per proporre itinerari di formazione delle coscienze. Grazie